Un risultato certo notevole è quello ottenuto qualche giorno fa dal presidente provinciale delle ACLI, Italo Sandrini, riconfermato nel Consiglio Nazionale, questa volta con oltre 193 mila voti a favore, il terzo per numero di preferenze. Tra qualche settimana il Consiglio Nazionale si riunirà per la fiducia al nuovo direttivo. Sicuramente è un bel risultato, ma non tanto per me, ma sicuramente per la provincia di Verona, per le ACLI veronesi, perché noi da tempo, ormai da anni, stiamo cercando con tutte le difficoltà del caso di sperimentare anche delle azioni sociali un po' come dire, non solo innovative, ma anche che erano poco nel DNA delle ACLI, quelle tradizionali. Al di là dei voti e del risultato, le ACLI veronesi in questi anni hanno portato avanti numerosi progetti innovativi, come Rebus che si occupa di redistribuire le eccedenze di beni invenduti. Nessuno escluso l'associazione che affianca gli studenti meno fortunati nei quartieri di Verona con laboratori gratuiti e servizi per il doposcuola e molti altri ancora. Importante in questo momento è reinterpretare le nuove esigenze del sociale, rimanendo però sempre fedeli ai valori fondamentali e fondanti delle ACLI. Mantenendo fede ai principi fondanti delle ACLI, che sicuramente hanno 75 anni di storia, per cui insomma sarebbe sbagliato dimenticarsi la nostra provenienza. Però saper leggere i tempi, insomma questo ci viene chiesto a noi, saper leggere i tempi e dare risposte come le ACLI hanno sempre fatto alle fasce di popolazione che è ancora di più in questo periodo qua, vuoi la pandemia, vuoi l'aspetto economico che è molto collegato, insomma veramente hanno difficoltà ad arrivare a sera. Però secondo me adesso il problema principale sarà tutte le categorie di lavoratori, diciamo così, cui lavora precari, che ormai non sono più precari, tutte le partite IVA che sembrano ricche in realtà non lo sono, per cui tutte le procedure di sdibitamento secondo me andrebbero coltivate come ACLI, credo. E poi secondo me la vera battaglia è sul bene, sui beni pubblici, cioè secondo me è pazzesco, dove in questo momento qua ci sono dei servizi. Lasciamo parlare della sanità che quella è la più eclatante, però anche l'aspetto dell'energia elettrica, degli trasporti, secondo me è proprio il momento di invertire, al di là delle ideologie, invertire i paradigmi che abbiamo in testa.